A Montespaccato si gioca uno dei tanti big match del campionato di eccellenza che quest'anno nei due gironi si sta rivelando davvero bellissimo. A fare visita alla squadra di Bussone arriva il Gaeta di Mister Mancone, squadra con interpreti importanti e distanziata di soli quattro punti. È il Gaeta la prima a reclamare un calcio di rigore, seguita poi da Damiani, strattonato in piena area di rigore. Proteste anche sul gol che sblocca la gara traversone di Carnevale, pallone allontanato e bellissimo sinistro al volo di De Costanzo per il vantaggio ospite. Dubbi per questo contatto su anello. Montevivo alla ricerca del pari che continua a costruire con Fulvi che prova ad accentrarsi, bella parata di Saglietti. Tanti gli episodi dubbi con il tentativo di acrobazia di Madonna che sembra venire completamente bloccato dal braccio del difensore avversario. Come rivediamo nelle immagini, Madonna imbecca bene Fulvi sulla profondità, murato sul primo palo. Dopo diversi sforzi arriva l'1-1, punizione di Dovidio, sponda sul secondo palo per Damiani al centro che si fa trovare pronto per il settimo gol in campionato. Impegnato anche Egidio in una delle ultime azioni di un primo tempo bellissimo. Inizia il secondo tempo e questa volta nessun dubbio per il direttore di gara sul tiro di Damiani. È calcio di rigore. Il tiro del 9 è neutralizzato bene da Saglietti, bravissimo ad allungarsi e respingere. Il Monte preme anche con i nuovi entrati con Fofi che tira troppo debolmente. Spingono sulla destra i biancazzuri con Moretti che libera la buona conclusione di Cervoni. Dopo una gara da professore del centrocampo, Carlini rimedia il secondo giallo e lascia il Gaeta in 10 negli ultimi minuti. L'ultima grossa opportunità capita di testa allo specialista Nello, palla di poco alta. Finisce 1-1 tra Monte, Spaccato e Gaeta con entrambe le squadre che rimangono ai piani alti, non vedendo aumentate le distanze dal Ferentino primo in classifica.